Buon pomeriggio a tutti voi che siete collegati, intanto un grazie da parte mia a nome anche del nostro studio Cortellazzo e Soato di Padova per questa partecipazione e vado subito rapidamente chi oltre a me ci aiuterà a entrare nella tematica del piano di transizione 5.0. Sono collegati con me nel nostro studio il collega Freddo che appunto avrà un po' l'onere di introdurre e commentare il contesto normativo ma non solo. Ben arrivato Pietro, ben collegato con te. Buon pomeriggio a tutti. E con noi anche del White Energy Group veronese Franco Asuni. Buon pomeriggio a Franco. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. E con te Franco anche l'ingegnere Alessandro Spiri che saluto. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Bene, saranno un'oretta e mezza diciamo abbondante e intensa. Io ho concordato con i colleghi di introdurre un attimo la tematica e di cercare anche magari di sensibilizzarvi su quelli che a mio modesto avviso possono essere gli aspetti per i quali prestare un po' di attenzione. Tra di voi ci può essere chi è già molto preparato di questa materia o piuttosto ci può essere anche qualcuno che ne sa poco, è molto diffidente, lo ha percepito come una tematica diciamo di eccessiva normativa. Innanzitutto partirei da ricordare che la posizione 5.0 è un piano strategico prevalentemente finanziato con fondi delle PNRR messo a punto dall'attuale Ministero dell'Industria del Made in Italy che però arriva come successivo passo di una serie di passi che sono iniziati direi nel dal 2016 con l'inizio di quella che è stata l'industria 4.0 come iniziativa di incentivazione e quant'altro. Infatti l'elemento da cui vi prego di tenerne conto è che si parte sempre da investimenti che rientrano in quella che era ed è tutt'oggi il perimetro di Industria 4.0. Quindi il piano di transizione 5.0 coesiste e mi viene da dire potenzia di molto quello che può essere il sistema incentivante già presente per Industria 4.0. In che termini lo può potenziare? Lo può potenziare in termini di maggior valore dell'incentivo che come molti di voi sapranno già è un credito d'imposta legato agli investimenti che devono essere fatti ma non solo lo può potenziare perché questo credito d'imposta invece che essere utilizzato in tre rate a partire dell'anno successivo può essere utilizzato anche interamente interamente se c'è capienza fiscale nello stesso anno e nell'unico anno per cui capite più credito e più rapidità molta più rapidità nella sua utilizzo e di questo poi con il collega Pietro Freddo qualche dettaglio in più sicuramente ci arriverà. Questo è il punto di partenza e anche il punto di arrivo ma cosa abilita questo effetto boost di transizione 5.0? Viene abilitato con gli investimenti che vengono fatti si raggiunge un livello minimo di efficientamento energetico quindi delle percentuali minime 3-5 per cento per dare dei valori così indicativi poi gli amici di White Energy ci aiuteranno a entrare bene in queste dinamiche anche con degli esempi concreti che sono frutto di loro già esperienze presentate e approvate dal GSE. Ripeto se si riesce ad agganciare anche l'efficientamento energetico e non solo l'industria 4.0 la sua diciamo interazione che è prevista interazione da un punto di vista di connessioni e quant'altro allora hai questo elemento premiante altrimenti ti devi accontentare del credito di industria 4.0. Questo come primo principio un ulteriore elemento di riflessione preliminare è questo molti di voi hanno senz'altro chi lavora ovviamente o ricopre ruoli anche di un certo tipo operativo industria controllo finanza all'interno di un'azienda hanno senz'altro avuto a che fare con incentivi di vario genere incentivi fiscali quindi dall'altra parte del tavolo troviamo sempre l'agenzia delle entrate troviamo sempre il fisco e in talune circostanze queste esperienze sono state negative o addirittura molto negative cito solo ricerca e sviluppo per dichiarare una oggi insomma sta creando tanti tanti problemi a tantissime aziende cosa ha di particolare questo sistema di incentivazione legato a piano transizione 5.0 ha un approccio una procedura con diremmo lo stato che analizza mentre autorizza preventivamente verifica in corso d'opera e verifica anche in fase a posteriori attraverso il ruolo chiave del gse del gestore appunto gse italiano e questa procedura che prevede una certificazione ex ante che viene depositata inviata e una c'è esposta e prevede anche una verifica contabile di quanto viene poi documentato e sostenuto e prevede anche una conservazione nel tempo della documentazione a supporto tutto questo processo che per praticità io chiamo di certificazione fa sì che il credito di importo una volta maturato nel cassetto fiscale dell'azienda porta con sé tutta una dotazione di elementi che lo mette nelle condizioni di essere difeso di essere documentato di essere documentato a controlli successivi che dovessero che dovessero presentarsi questo per noi è fondamentale ed è stato fondamentale direi sia per comprendere che per il nostro studio per poter approcciare su questa tematica visto che di crediti fiscali e anche negli anni più recenti ci siamo ampiamente ampiamente dedicati ma questo non può prescindere da una serie di competenze necessariamente molto professionali molto anche specializzate da un punto di vista tecnico da qui il confronto con la struttura appunto di white energy group e da qui l'idea di chiedere anche a loro di poter collaborare con noi nel proseguo per dare supporto alla clientele e alle aziende su questa partita che è una partita mi viene da concludere bruciante perché sicuramente qualcuno di voi avrà letto o sarà già documentato sul fatto che la chiude per quanto riguarda transizione 5.0 attuale il 31 12 2025 quindi un paio di mesi per le idee dopo di che se si vuole fare i progetti devono partire sicuramente prima della fine del corrente anno spero di avervi dato qualche elemento di riflessione di apertura e per aiutarci anche a tarare meglio quelle che sono le nostre le nostre relazioni tra pochi minuti passerò subito la parola il collega pietro freddo vi chiedo la cortesia di tenere un po e di guardare quello che è il sondaggio che vi vado adesso a proporre e ve l'ho mandato e vi chiedo quindi la cortesia di potere in qualche maniera dare una qualche risposta proprio per condividere velocemente anche con i miei colleghi l'impostazione che questo webinar dovrà avere alla luce di quelle che sono le vostre percezioni di una normativa questa che ha la sua legge fondante praticamente un anno fa ma che ha avuto le istruzioni operative ad agosto quindi un mese fa esattamente un mese fa il portale del gse è in funzione è in funzione da dal nove dall'otto dal dieci di agosto quindi è chiaro che il tema è ancora freschissimo ma c'era molta attesa c'era molta aspettativa da questo punto di vista e quindi in qualche modo anche noi ci fa piacere cercare di avere da parte vostra un qualche un qualche feedback vi ringrazio per aver partecipato condivido a beneficio di tutti quella che è un po' il il risultato di questo di questo sondaggio spero che sia visualizzato chiedo anche a pietro che me lo conferma abbiamo appunto per una 45 per cento un certo interesse per un 20 per cento viene comunque per molto complessa la sua progettazione un 10 per cento sa ben o meno parlando un 20 per cento di risposte ovviamente sono risposte multiple ma c'è comunque un quinto che vede un obiettivo con con tempistiche molto corte quindi è in effetti è una delle tematiche che che sono sul tavolo sono anche sul nostro tavolo da tempo e sempre un 20 per cento che al quale speriamo di dare informazioni sufficienti oggi perché dice devo ancora capirne insomma un pochino meglio di cosa di cosa si tratta molto bene e grazie per questa per questo anche vostra interazione allora io a questo punto passerei la parola al collega pietro freddo che ci segue e ci introduce tutta la parte del contesto normativo agli amici alessandro e franco di white energy group ripasseremo invece la parola tra una mezz'oretta e auguro a tutti un buon ascolto e una buona prosecuzione grazie a tutti grazie a tutti